Anche l'ECCO avrà il Gay Pride. A promuoverlo il prossimo 20 giugno l'associazione Renzo e Lucio che da anni si batte per i diritti delle persone transessuali e omosessuali nella nostra città. Già da un po' che pensavamo di fare questa iniziativa, di portarla a LECCO, siamo riusciti a farlo solo adesso, quindi lo faremo l'anno prossimo nel 2020 e sarà il 20 giugno. Questo è l'annuncio ufficiale che facciamo quest'oggi. È un'iniziativa che già da anni, oltre a essere un'iniziativa che viene fatta nelle grandi città, inizia a essere fatta anche nei centri di provincia, perché è un conto essere omosessuali, transessuali o lesbiche all'interno di una grande città, è un'altra cosa esserlo invece in provincia, sicuramente è più difficile. Quindi il portare un'iniziativa di questo genere a LECCO vuole proprio in qualche modo cercare di rompere ancora di più quelli che sono i pregiudizi che accompagnano sia il Pride in modo particolare, ma poi dopo tutto quello che accompagna la vita delle persone LGBT. Il 20 giugno ci sarà la sfilata per le vie di LECCO, che poi dopo finirà in Piazza Garibaldi, ed è un momento di festa fondamentalmente, come tutti i Pride. Ci saranno dei carici, ci sarà della musica, cercheremo di portare l'allegria all'interno della città. Quello che la città di LECCO, ma anche tutta la provincia di LECCO si può aspettare come manifestazioni culturali, sono di vario tipo. Il primo è già il 29 novembre, sarà all'Arci Spazio Condiviso di Calolzio, una conferenza per affrontare la tematica LGBT dal punto di vista genitoriale. Non per ultimo abbiamo chiesto a Liliana Segre, la senatrice a vita, sopravvissuta a Auschwitz, di venire a tenere una conferenza a LECCO, perché sicuramente lei, come pochi altri, possono spiegare cosa vuol dire vivere in una società che ti esclude per quello che sei.